Oggi parliamo dello scrivere e vi leggo allora i consigli di Ennio Flaiano a un giovane analfabeta che vuole darsi alla letteratura attratto dal numero dei premi letterari. Chi apre il periodo lo chiuda, è pericoloso sporgersi dal capitolo, cedete il condizionale alle persone anziane, alle donne e agli invalidi, lasciate l'avverbio dove vorreste trovarlo, chi tocca l'apostrofo muore, abolito l'articolo non si accettano reclami, la persona educata non sputa sul componimento, non usare l'esclamativo dopo le 22, non si risponde degli aggettivi incustoditi, per gli anacoluti servirsi del cestino, tenere i soggetti al guinzaglio, non calpestare le metafore, i punti di sospensione si pagano a parte, non usare le sdrucciole se la strada è bagnata, per le rime rivolgersi al portiere, l'uso del dialetto è vietato ai minori di 16 anni, è vietato servirsi del sonetto durante le fermate, è vietato aprire le parentesi durante la corsa, nulla è dovuto al poeta per il recapito. Flaiano è uno scrittore che si potrebbe ascrivere alla categoria della scrittura semplice, ma addirittura lui, della propria scrittura, parlava in termini quasi negativi, Flaiano dichiara io voglio scrivere male, ma c'è una dichiarazione di poetica importantissima in questa sua affermazione, scrivere male per Flaiano significa usare la parola perché significhi sempre con chiarezza, lo scrittore non deve mai usare parole che nascondano, ma parole capaci di rivelare. Scrivere male vuol dire per Flaiano sostanzialmente sottrarsi alla tradizione letteraria, quella tradizione così tipicamente italiana, che da ben poi in poi ha fatto sì che lo scrittore per entrare nell'universo letterario dovesse comunque ricondursi al modello alto della letteratura. Scrivere male significa recuperare l'autenticità della parola e Flaiano a lungo si sofferma su questo male della società italiana, non solo della letteratura, ma soprattutto della società italiana, che è usare parole ingannevoli. Per Flaiano lavorare sulle parole vuol dire alleggerire, trovare la parola efficace. È interessante lavorare sui manoscritti perché ci si accorge di come il lavoro correttorio di Flaiano vada quasi sempre nella direzione del levare, qualche volta nella direzione non opposta ma complementare dell'aggiungere, ma perché l'aggiunta è l'avverbio, l'aggettivo che devono precisare. Recuperare l'autenticità della parola, superare l'equivoco e la volgarità ricorrendo a un metodo di scavo e di contaminazione tra alto e basso. I preziosi materiali custoditi e studiati presso il centro manoscritti dell'Università di Pavia fondato da Maria Corti illuminano con vigore il processo creativo di Flaiano.